. Le Iene Show 2018, diretta prima prima puntata.Dopo una lunga attesa tornano le Iene Show su Italia 1, con una prima puntata che promette grande intrattenimento. Alla conduzione ritroviamo Nadia Toffa, al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni sulla malattia che sta combattendo. Ancora top secret i contenuti dei servizi che vedranno protagonisti i vari inviati, ma la produzione assicura che i fan non rimarranno delusi. Ad affiancare Nadia Toffa alla conduzione gli storici Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Per il debutto di Alessia Marcuzzi, invece, bisognerà attendere mercoledì prossimo, con la partecipazione confermata della Giallappas Band. Tutto pronto su Italia 1 per il ritorno delle Iene, grande curiosità sulle nuove inchieste della stagione. Ricordiamo che la puntata sarà visibile anche in live streaming sul portale di Mediaset. Aggiornamento Jacopo D'Antuomo. Attesa alle stelle.Grandissima attesa per la nuova stagione delle Iene. Il programma di Davide Parenti, torna nella prima serata di oggi, domenica 20 settembre 2018. La puntata di questa sera, sarà condotta da Nadia Toffa e le altre Iene dello show, esattamente come accadeva lo scorso anno, per l'esattezza, in diretta ci saranno, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Al mercoledì invece, spazio per Alessia Marcuzzi insieme a Nicola Savino e l'irriverente presenza della Giallappas Band. Attualmente non sono presenti anticipazioni per quanto riguarda lo show e quindi, in attesa di news in merito, vi ricordiamo che la puntata sarà visionabile in diretta streaming anche sul portale ufficiale di Mediaset oppure tramite la relativa applicazione. Avendo a vostra disposizione una connessione dati, potrete guardare il programma perfino in mobilità, ovunque voi siate. Tra i servizi della serata, ne verrà proposto uno particolarmente toccante che racconterà le sventurate vicende di uno sfratto ai danni di un povero 90enne. Aggiornamento di Valentina Gambini. L'attesa è finita.L'attesa è finita per le Leiene Show. Oggi, domenica 30 settembre, in prima serata su Italia 1, tornano l'appuntamento. Il programma più irriverente della televisione italiana ricomincia con una nuova stagione nel corso della quale ci saranno tanti, nuovi servizi e inchieste scottanti realizzate dagli inviati più coraggiosi della trasmissione ideata da Davide Parenti. Dal 1997, anno in cui andò in onda per la prima volta, le Leiene Show sono state le protagoniste di tutte le stagioni televisive successive. Quella che comincia questa sera è un'edizione particolarmente importante che segna il ritorno di Nadia Toffa che condurrà l'appuntamento domenicale insieme a Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. L'appuntamento infrasettimanale, invece, andrà in onda da mercoledì 3 ottobre sempre in prima serata su Italia 1. Al timone ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Giallappas Band. Le Iene Show, Giovanna Nina Palmieri racconta la storia di Mario.Una figura fondamentale delle Iene Show è quella dell'inviati. Quelli della stagione 2018 fratto 2019 sono, Fabio Agnello. Nick Bello, Paolo Calabrensi, Valeria Castellano, Scott, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De De Viti, Alessandro De Giuseppe, Angelo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. .